Buongiorno da Naples Fantastique Francese Facile. Oggi vi aiuterò a pronunciare come l'ofon francese 60 parole francesi spesso utilizzate nella lingua italiana che riguardano l'alimentazione. Vi invito a ripetere più volte questa lezione così potrete ripetere perfettamente le diverse parole. Quando andiamo a fare la spesa alla boulangerie possiamo chiedere la baguette o la flûte che sono due tipi di pane tipicamente francese. Una volta, le petit déjeuner all'hotel era sotto forma di un buffet. Quindi serve prendere le plateau e scegliere un brioche, un croissant, un madeleine o un crepe. Alcuni alberghi propongono anche qualche goffre. A pranzo, per le déjeuner, l'aperitivo può essere portato insieme ai canapè. In alcuni casi, nel menu, le chef propone i gustosi volovans mentre le sommelier fa scegliere il vino conservato nel cavo. Un bordeaux, un cote du Rhône o un bourgogne rouge, blanc o rosé sono sempre graditi per accompagnare le pietanze. La scelta è così ampia che sembra che siamo in un bistrot. Come entrer? Perché non scegliere un consommé o un potage, quindi passato di verdure, con la crème fraîche? Le pâté o le pâté en croute sono perfetti un cordon bleu fatto di pollo e formaggio, un tartare di carne o di pesce crudo insieme alla purée o un soufflé fatto di uova, latte e farina molto morbido oppure un gratin. Come dessert, a volte c'è la nouvelle cuisine. A volte ci sono dolci più tradizionali come l'omelette flambé, la frittata irrorata con liquore che viene acceso con la fiamma, la tarte tatin con la torta rovesciata, il Mont Blanc con le castagni, le profiterole con la cioccolata, il Saint Honoré con la crème fraîche, la crème caramelle, la crème brulée, la mousse con la crème aschiumosa, la charlotte fatta con i savoiardi come base. A volte, il gâteau, il dolce, è ricoperto con la ganache, una crema al burro o alla cioccolata. Per un pasto informale, è simpatico le barbecue. Per accompagnare i dolci, la scelta è vasta. Ad esempio, nelle flûte, si versa le champagne, il quale può essere brut, dou, sec, o demi sec. Per concludere, potete fare un canard, cioè intingere velocemente una zolletta di zucchero nel caffè o nell'alcol e mangiarlo subito, senza scioglierlo nella tazza o tra le dita. Come digestivo, sono perfetti un cognac o un cointreau. Abbiamo terminato. Io vi consiglio di ripetere più volte questa lezione in modo che ogni volta che arriverete a una parola francese riuscirete a pronunciarla perfettamente. Grazie per l'ascolto. Se volete, aggiungete anche un commento. Vi consiglio di iscrivervi al mio canale YouTube Naple Fantastique senza dimenticare di attivare la campanella per ricevere tutte le novità. Parlatene con i vostri amici e condividete. Merci beaucoup e alla prochaine fois.